Una cerimonia suggestiva quella che ha visto in Prato Magno l'inaugurazione del Cippo nel luogo nel quale nel 1933 l'aereo del trasvolatore australiano Ben Hinkler precipitò causandone la morte. Un monumento costituito da un grande masso arrivato direttamente dall'Australia nel quale è custodita una capsula del tempo che verrà riaperta tra cento anni e che contiene messaggi che le autorità australiane tra le quali anche il primo ministro hanno voluto lasciare in omaggio dell'eroe dell'aria. Una giornata veramente meravigliosa, un ricordo che l'Australia, l'Italia, anche l'Italia, un ricordo che tra i due o tre paesi continuerà nel mondo, non soltanto di questo fortunato aereo che è spaduto sul Mato Magno ma anche il fatto che si viveva in questo. Innanzitutto è la commemorazione di un eroe tutto tondo, ha partecipato alla prima guerra mondiale nella RAF inglese contribuendo alla vittoria anche dell'Italia e degli alleati ma sicuramente un omaggio che poi lega questa terra al continente australiano. Alla cerimonia erano presenti oltre alle autorità australiane anche rappresentanti della Gran Bretagna, sotto la cui bandiera Hinkler combatte anche in Italia durante la prima guerra mondiale. A fare gli onori di casa il presidente della provincia di Arezzo, il CAI e la brigata di Raggiolo che hanno permesso tra le altre cose di arrivare all'inaugurazione di un nuovo sentiero ribattezzato Hinkler Ring che attraversando i boschi del Prato Magno arriva fino al monumento. Credo che la regione faccia parte non soltanto perché è la proprietaria del demanio dove il memoriale è stato realizzato ma a piano titolo siamo molto interessati ad avere questo rapporto a rinsaldarlo con l'Australia.